La quantificazione dei danni è ancora in corso e le cifre si stanno rivelando consistenti rispetto alle prime sommarie valutazioni. Lo ha ammesso il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, annunciando l'arrivo lunedì alle 16 del ministro alle infrastrutture Toninelli. Nelle ultime ore, ad esempio, la Giunta ha approvato il verbale di sommorgenza per i primi interventi emergenziali effettuati sulle via Pollo, Limpo e Teti, tutte strade in prossimità dell'alveo del fiume Acragaz che è esondato. Su via Serraferlicchio, parte di via Sicilia Fontanelle, strada di collegamento con la strada statale 118, in via Caduti di Marzabotto, in via degli Olivi, nonché in via Gele, in via Le Falcone e Borsellino. Una spesa complessiva per gli interventi emergenziali è stata di 12.000 euro. Il sindaco Firetto ha consegnato a Roma, al Comitato Direttivo del Lancio, un documento in cui chiede che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiana faccia propria la proposta di emendamento per estendere gli interventi destinati ai terremotati anche ai comuni colpiti dal maltempo in Sicilia e in Veneto. Un'idea che Firetto porterà anche lunedì al tavolo dell'incontro tra i sindaci e il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, in prefettura d'Agrigento. Un appuntamento nato proprio per una rendicontazione dei danni subiti il 3 novembre. Il calcolo è ancora in corso e sta già rivelando cifre consistenti rispetto alle prime sommarie valutazioni. Le aree colpite si estendono ben oltre la focia del fiume Acragas. Alcune delle situazioni più gravi sono ad esempio in via Favignana per il cedimento del costone roccioso, su lungomale Falcone e Borsellino, per l'abbassamento della sede stradale in via Crispi, per un crollo nella zona della Mosella al villaggio Mosè. Si è già svolto invece l'incontro alla regione siciliana per discutere degli interventi contro il dissesso idrogeologico da realizzare a salvaguardia della popolazione e delle attività commerciali e agricole del comune di Sciacca, a coordinare la riunione il governatore Nello Musumeci. La regione farà il possibile per ridurre con alcune opere a monte la quantità di acqua che scende, ma il danno è quasi insanabile. Se potessi mandare in galera chi quelle opere le ha progettate e realizzate, ha affermato Musumeci. Nel corso della riunione si è fatto anche il punto sullo stato dell'arte dei progetti che la regione metterà in campo nel breve e nel medio periodo.